A parte il fatto di essere ancora vivo, nulla di tutto questo mi sorprende. La tecnologia è più potente e noi più deboli. Abbiamo costruito computer, robot, armate interamente automatizzate. Ma cosa succede quando il nemico ruba le chiavi? Quando gli agici che abbiamo costruito per difenderci sono stati rivolti contro di uno? È allora che si sono resi conto. Che avranno sempre bisogno di uomini come noi. Uomini disposti a fare... ciò che gli altri non possono. ... 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